Amici telespettatori, bentornato a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. La nuova settimana inizierà con aria un po' più fredda sull'Italia. Arriva dal nord Europa, interesserà un po' tutto il nostro paese, quindi temperature in rapida diminuzione sin dalle prime ore di lunedì in tutto il paese, con valori che all'alba risultano localmente anche al di sotto dello zero al centro nord. E inoltre settimana che vedrà il passaggio di alcuni sistemi nuvolosi, in particolare a metà settimana, giornata di mercoledì, perturbazioni che porteranno pioggia al centro sud e qualche fiocco di neve anche a quote relativamente basse al nord.